Buongiorno, stiamo andando a Ostia, stiamo andando vicino all'area dove sorgeva la scuola Dore mi diverto e ora non ci si diverte più nessuno, la scuola è stata incendiata, incendio doloso e mai più ricostruita, ma soprattutto c'è un problema enorme di amianto e anche di donazione di quest'area a qualcun altro, andiamo a fare chiarezza. Siamo arrivati a Ostia, vicino al municipio, vicino al lungomare, quella alle nostre spalle e quella che dovrebbe diventare la cittadella dell'accoglienza, dentro ci sono anche delle scuole, andiamo a vedere dove è finita la nostra Dore mi. Questa è una scuola che è stata incendiata, ha preso fuoco, è una scuola che conteneva l'amianto e non si è mai capito se questo l'amianto c'era o non c'era, ma di fatto poi dopo alcuni documenti, alcuni rilevamenti hanno appurato la presenza di amianto, per molti anni non si capisce perché la scuola sia stata lasciata con i detriti e con la pericolosità, anche perché qui intorno ci sono altri asili, altre scuole pubbliche e l'incomodità della salute pubblica di questi bambini è stata lasciata senza nessuna risoluzione al problema. Questa è una situazione scandalosa dove sono stati spesi 900 e passa 1.000 euro di soldi pubblici per un'area pubblica donata a un ente privato. Qui la questione si apre al momento in cui noi nel Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un'interrogazione, abbiamo fatto un accesso agli atti dove è uscito un documento che accertava la presenza di amianto. Questo materiale doveva essere tolto già da un anno e passa, un anno e mezzo quasi, è rimasto giacente sul terreno fino a che non c'è stata la famosa interrogazione e ha determinato poi la rimozione dell'amianto in somma urgenza, ma poteva essere fatto benissimo da un anno e mezzo. Fino adesso la commissione ufficiale su questo tema non è stata mai fatta, visto l'evolversi della faccenda e anche i documenti che sono stati trovati, anche gli attori in campo, vi tenavamo opportuno che l'Assemblea Capitolina tramite la commissione venisse ad accertare insomma... ...tecnico incaricato del Comune, perché oggi il Comune ha mandato qui l'ingegnere Caffaggi, poi se non lo conosco di persona... No, non c'è, non c'è. Dov'è Caffaggi? C'è Caffaggi? E' a Sette. Non c'è. C'è? Dov'è Caffaggi? Lui è stato ufficialmente incaricato di venire qui per conto degli uffici, poi io non conosco Tassone, quindi... A Sette. E' a presente Tassone? O se c'è qualcuno inviato da lui? A Sette. C'è qualcuno che rappresenta Tassone. Pronto, nessuno di queste amministrazioni viene a mettere la faccia su questo scempio, nessuno. C'è un lembo di terra conteso da oltre due anni ormai tra cittadini e amministrazione di questo municipio, un lembo di terra che per molto tempo è stata una ferita aperta di questo territorio, dove hanno lasciato per anni detriti di amianto che era volatile perché poi c'è stato un incendio doloso e che quindi si è disperso nell'area dove troviamo tutti edifici che vengono a ospitare bambini dai 4 anni fino ai 13 anni. Quindi una ferita aperta dove i cittadini hanno lottato, si sono mobilitati, l'iniziativa personale ha formato un comitato dei genitori che ha chiesto fortemente e la ricostruzione di una scuola perché è un segno forte di una cittadina pulita, onesta e rivendicare una scuola laddove la mafia la brucia. Questa memoria di giunta viene affermato che i posti relativi all'asilo nido, era una scuola materna, vengono cercati attraverso la stipula di convenzioni con nidi privati. I nidi non sono le materne, il comune non ha competenze nella stipula di alcunché convenzione per le materne. Questo non era un nido, questa era una materna. La giunta manco lo sapeva perché parla di asilo nido, parla di cose che non conosce, non conosce. Tra l'altro è l'unica a tempo pieno che viene dentro di Osa. Qui il problema non è Caritas sì o Caritas no, le dico che la Caritas è disponibile a trovare anche un'altra area, l'ha detto. Per cui il problema non c'è, questo è il punto. Qui è scuola sì o scuola no. Visto quello che è stato fatto dai cittadini, un percorso di anni, progetti presentati gratuitamente, scuola finanziata, un milione di euro speso, oggi il tema penso sia questo qua. Come al solito facciamo quello che dobbiamo fare all'interno delle nostre commissioni, in questo caso all'interno della commissione capitolina del nostro consigliere Daniele Frongia. Abbiamo trattato il tema della questione annosa della Dore Mi Diverto e gli uffici preposti che erano stati comunque chiamati non sono intervenuti e non hanno potuto dare comunque spiegazioni alle domande legittime e alle questioni comunque di opacità che abbiamo trovato all'interno di questa questione. Rivendichiamo comunque di dover fare qualcosa per questa situazione e io all'interno del consiglio municipale proporrò appunto il cambio del direttore dell'ufficio tecnico. Scuola Dore Mi Diverto, una storia fatta di amianto, di pericolo e danno per i cittadini, di presa in giro dei cittadini, probabilmente di illeciti, forse un danno erariale. Per noi anche questa si chiama mafia capitale.